13 anni sui social per 8 ore al giorno? Sì, secondo uno studio di Common Sense Media, per gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni, l'utilizzo dei social è un lavoro a tempo pieno, 8 ore e 39 minuti. Ma un nuovo sondaggio, che ha intervistato oltre 1000 giovani tra gli 8 e i 18 anni, ci racconta che i ragazzi, a differenza di quanto si può pensare, non utilizzano principalmente i social per rimanere in contatto con i coetanei, gli adolescenti per esempio, passano 3 ore al giorno per i contenuti video, 2 ore per giocare e solo 20 minuti per chat e videochiamate. A preoccupare è soprattutto l'utilizzo dei social da parte degli under 13, chiaramente, dei più piccoli. Questo nonostante alcune piattaforme richiedano agli utenti di avere almeno 13 anni a causa di una legge che vieta alle aziende la raccolta dei dati. Anzitutto, quali sono i pericoli? Senza voler demonizzare lo strumento in sé, va detto che i social media ci mostrano sempre più contenuti, grafici e reali, a volte anche spaventosi, che i bambini non sono pronti a vedere, poiché non hanno gli strumenti per decifrarli, per elaborarli. Su TikTok, ad esempio, è molto facile incampare in video live dalla guerra in Ucraina, ma crescere esseri umani in un mondo digitale, lo sappiamo, non è affatto facile. L'approccio di molte scuole e famiglie, fino ad oggi, è stato quello di bloccare l'utilizzo dei social attraverso strumenti di controllo informatico. Una visione miope, però, dato che questi strumenti informatici vengono molto spesso violati e conosciuti ancora meglio dagli studenti stessi. Cosa possono fare, allora, i genitori? La risposta sta nella famosa educazione digitale, sì, ma possono anche proporre alcuni semplici esercizi. Il primo, chiedere ai bambini di riflettere su come trascorrono il loro tempo nel corso della giornata e loro stessi si sorprenderanno di quanto tempo impiegano sui social. Numero due, possono chiedere loro di creare un elenco di 25 cose che farebbero se i social non esistessero ed incoraggiarli a svolgere alcune attività, prendendosi una sorta di vacanza detox dai social per 24 ore. Infine, potreste siglare un accordo tecnologico e cercare di rispettarlo. In che modo? Definendo alcuni limiti nell'utilizzo dei social. Ad esempio, i più piccoli possono pensare di guardare YouTube solo per un certo tempo e solo se il genitore è presente nella stanza con loro. Insomma, la parola chiave è una, dialogo.